Nel giorno delle celebrazioni dei Santi Cosme Damiano alla presenza delle Parca di Lungro, Monsignor Donato Oliverio, del Consigliere Legare del Presidente della Repubblica di Albania, Clement Zguri e di autorità governative regionali e locali, militari e religiose, a seguito di una speciale sentita cerimonia che si è tenuta all'interno del Santuario dei Santi Patroni delle località Arbeche, si sono mossi i primi passi lungo il percorso di amicizia ed intenti comuni che l'amministrazione comunale di San Cosmo Albanese ha istruito con quella della città di Mirdizia. Importante località albanese che ha visto la storia del patriota sancosmitano, Terenzio Tocci, il principale elemento di congiunzione. A sottoscrivere il documento sono stati i primi cittadini delle due località gemelle, Damiano Baffa e Albert Melischi, che hanno avviato un proficuo rapporto di scambio economico e culturale, oltre a disegnare, ad operare verso la realizzazione di una visione di valorizzazione del comune passato che i due sindaci si sono già promessi di costruire nella prima visita svoltasi lo scorso mese di giugno in Albania. Come illustrato nel corso della manifestazione, il vice prefetto vicario di Cosenza Rosa Correale, alla consigliera regionale Pasqualina Straface, ai colleghi sindaci presenti e ai numerosi cittadini accorsi per l'occasione, sono tanti i punti di contatto tra San Cosmo Albanese e Mirdizia, in particolare nel settore delle tradizioni popolari e religiose, della storia, della lingua, della cultura, dell'artigianato, ma anche dei prodotti tipici e del paesaggio naturalistico. Potenzialità di sviluppo che presto si evolveranno reciprocamente in ambito turistico, sociale, economico e culturale. Insomma, un'importante collaborazione istituzionale, socio-economica e culturale, che grazie a una serie di progetti di cooperazione internazionale risponderà agli interessi delle rispettive comunità, contribuendo al rafforzamento delle relazioni di buon vicinato. Ed è proprio come aveva richiesto il presidente Begai al sindaco Baffa, adesso bisognerà attivare azioni di scambio e informazioni, anche di esperienze professionali e lavorative, tese a promuovere e realizzare iniziative congiunte, particolarmente significative per le rispettive comunità. Un momento colmo di tante emozioni, quello vissuto da San Cosmo Albanese, a cui hanno partecipato alcuni sindaci arbèche dell'Interlande e il nipote dell'eroico patriota Terenzo Tocci, discendente da colui che nell'aprile del 1911 a Oroch issò per primo la bandiera d'Albania e che dopo aver radunato i capi della merdizia, stabilì un governo provvisorio per proclamare l'indipendenza dell'Albania.